Il 16 e il 17 agosto scorso l'associazione SD Atletico Silvi Futsal in collaborazione con gli amici di Milo e grazie al sostegno degli sponsor di Silvi e dintorni organizzarono il primo memorial di calcio tennis dedicato a Emilio Vallescura, noto imprenditore locale deceduto lo scorso 26 maggio in un tragico incidente stradale. E' uno sport di cui lui è stato si può dire il fondatore nella cittadina costiera e che negli anni ha sempre più coinvolto giovani e turisti. I fondi raccolti sono stati impiegati per l'acquisto della sedia job intitolata Milo Vallescura che è stata donata al comune di Silvi che a partire dalla prossima estate la metterà a disposizione della comunità. E' un modo di sensibilizzare chi ha veramente bisogno sul territorio. Questo torneo è stato fatto perché lui era un amante del calcio tennis, diciamo che è stato quasi portatore a Silvi di questo sport estivo e sono orgoglioso che l'associazione, diciamo d'accordo con la famiglia, abbia dato questo aiuto alle persone che hanno bisogno sul territorio. Abbiamo pensato quindi di onorare la sua memoria organizzando questa manifestazione che ha avuto un po' di scontro nei giovani e con questo abbiamo pure raccolto dei fondi e questo fa molto onore alla sua memoria. Abbiamo fatto questa piccola minotornia quest'estate per raccogliere dei fondi con la mia associazione e con il ricavato di queste piccole cose abbiamo comprato quella sedia job che servirà a piccoli disabri di andare al mare. Questa sedia sarà posizionata nella spiaggia libera del Comune? Questa sedia sarà sicuramente a disposizione per tutte le persone che ne avranno bisogno. C'è in progetto col Comune una spiaggia per disabili da fare sul territorio di Silvi e dovrebbe essere già operativa quest'estate. Speriamo che possiamo utilizzarla lì.